Il Pantheon di Pietro Perugino itinerario attraverso l'Umbria si chiama così l'interessante progetto culturale dedicato all'inimitabile Pietro Vannucci presentato a Perugia nella Sala Fiume di Palazzo Donini un vero e proprio itinerario finanziato dal Servizio Turismo della Regione tramite cui andare a valorizzare i capolavori dello stesso Perugino situati in quattro comuni umbri vale a dire Perugia, Bettona, Deruta e Marciano Quattro comuni che riescono a delineare attraverso le opere conservate all'interno delle proprie collezioni o all'interno delle proprie chiese un percorso artistico relativo al Perugino veramente straordinario Il progetto è stato pensato con un criterio ben preciso ovvero creare un filo rosso rappresentato dalle diverse fasi della vita dell'artista partendo dagli esordi per arrivare alla piena maturità Seduta e Marciano conservano tracce legate agli albori della sua carriera in un comune come Bettona risultano esserci ben due dipinti custoditi nella Pinacoteca realizzati dalla maestra in una fase successiva a Perugia invece materiale prodotto negli ultimi anni di vita La Regione ha agito fortemente per valorizzare il cinquecentenario della morte del Perugino attraverso una serie di interventi sia attraverso forti campagne di comunicazione avete visto gli spot delle ultime stagioni in cui Perugino era protagonista oppure le sue opere e diciamo attraverso per esempio il Best in Travel grande riconoscimento ottenuto attraverso dalla Rolly Planet e ovviamente attraverso una serie di interventi sul territorio per valorizzare le tante eccellenze che sono sul territorio attraverso un percorso che segna l'aggregazione e l'unione dei comuni non più ognuno che lavora per sé ma tutti insieme per costruire un'offerta organizzata, ricca e coerente Grazie Grazie Grazie